Laure magistrali e accendendo il tuo talento. Sono Virginia e frequento il primo anno di scienze ambientali dell'Università degli Studi dell'Insubria. Ho scelto questa università perché permette di integrare la pratica con la teoria, sia per quanto riguarda attività di campo sia per attività di laboratorio. Infatti fin dalla trennale abbiamo potuto svolgere attività sia di laboratorio che sul campo facendo delle escursioni. Anche la tesi può essere scelta in base ai propri interessi, in base alle proprie attitudini, in base anche al curriculum che in magistrale si può scegliere. Nel mio caso durante la trennale ho preferito svolgere un'attività di laboratorio incentrata su tecniche analitiche, mentre in magistrale ho preferito invece svolgere qualcosa di più attivente in base al mio curriculum, ossia cambiamento climatico, svolgendo delle analisi paleoclimatiche e analizzando dei profesi data.